Giovedì 9 marzo 2017, sessantottesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda Santa Francesca. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Francesca. Accadde oggi. Il 9 marzo del 1959 appare per la prima volta nei negozi la Barbie, che diventerà una delle bambole più famose e vendute al mondo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il cosmonauta russo Yuri Gagarin, nato il 9 marzo del 1934. La citazione del giorno. Mantenetevi folli e comportatevi come persone normali. Correte il rischio di essere diversi, ma imparate a farlo senza attirare l'attenzione. Paolo Coeio. Dice il saggio. Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Proverbio cinese. La parola preziosa. La parola di oggi è glissare. Questo verbo deriva dal francese glissé e significa sorvolare su un argomento che potrebbe essere imbarazzante. Ad esempio, glissare sull'accaduto significa evitare di approfondire un fatto che potrebbe essere problematico.